Partendo appunto da un riferimento da cui abbiamo preso spunto, che dà il titolo alla giornata di oggi, laddove appunto ci si interroga sui linguaggi della comunicazione in riferimento ad un'Europa che si interroga sulla propria identità in trasformazione. Negli ultimi anni c'è stata una maggiore attenzione all'Europa. Si può notare che la corrispondenza nei picchi di questa attenzione alle notizie sull'Europa è legata naturalmente alla crisi. Una crisi che è cominciata ad essere tematizzata all'interno del telegiornale del Prime Time non prima del secondo semestre del 2011. Questo dato che può interessare chi si occupa di media dice poi però anche della ripartizione all'interno delle testate giornalistiche. Sicuramente c'è un rispetto appunto al valore medio che è del 4,9%. Questi sono dati riferiti al 2012. Una sicuramente attenzione maggiore data dal network RAI. Ci siamo quindi voluti interrogare però sul che cosa parlano e di che cosa si parla quando si parla di Europa attraverso i tweet, in particolare i tweet italiani. Quindi siamo andati a vedere la presenza dell'ERMA Europa. In questo periodo abbiamo fotografato appunto una forte attenzione sicuramente alla crisi, ma una forte attenzione anche a tutto quello che è avvenuto, ai drammatici eventi legati appunto allo sbarco di Lampedusa ma anche ad una dimensione invece del tutto quasi contrapposta dal punto di vista dell'impatto emotivo che riguarda invece la Champions League, quindi le partite di calcio. Allora